Brugman al Parma, Brunori al Pescara, operazione già definita? È un'operazione che si può mettere in piedi, che si può fare, stiamo parlando proprio in questi giorni con il Parma di questo tipo di operazione, loro hanno bisogno di un giocatore con quelle caratteristiche. Noi, come ho sempre detto, non vogliamo sicuramente tarpare le aria a un giocatore come Brugman che ha dato tanto al Pescara, il nostro capitano, è chiaro che toglierlo per andare in categorie come la nostra, c'è stata l'opportunità, ci sono state diverse opportunità, questo non rientrava nei nostri programmi. Però è chiaro che di fronte alla Serie A anche il ragazzo che comunque non è più un ragazzino ma comincia ad avere i 27 anni, è giusto che provi a fare la sua strada. Possiamo dire operazione ai dettagli? Operazione ai dettagli, sì. I termini, 2 milioni e mezzo più il cartellino di Brunori? Ma no, i termini non sono proprio così perché Brunori ha un suo valore e quindi adesso dobbiamo definire questi dettagli bene. Era possibile l'incastro con Ceravolo? No, no, non è possibile perché come ho sempre detto noi dobbiamo fare le cose che possiamo fare, Ceravolo per noi è un giocatore fuori budget. Poi siete a posto per quanto riguarda il reparto avanzato, parlo di punte centrali? Ma io credo proprio di sì, adesso siamo al completo e aspettiamo se ci sarà la possibilità di riportare Sottil qui oppure diversamente dovremmo trovare un giocatore con quelle caratteristiche. Dopodiché la squadra è abbastanza completa, anzi direi completa. Tutino verso Verone? Vale lo stesso discorso di Bruckman, se arriva un'offerta della Serie A è chiaro che è difficile trattenere i giocatori. È evidente che se non dovesse esserci quell'offerta della Serie A che garantisca al giocatore di giocare, perché poi non è che andare in Serie A per fare panchina credo che non vada bene a nessuno, in primis alla società che ne ha la proprietà del cartellino, però è chiaro che se dovesse arrivare un'offerta che non mette la condizione di giocare in Serie A è difficile convincerlo in altre maniere. Però se non dovesse esserci Pescara da quel punto di vista è abbastanza avanti. Sono tutti buoni giocatori lì davanti potenzialmente, ma non sono troppe scommesse? No, no, a parte che non sono troppe scommesse perché sono giocatori che se ne andiamo a vedere, Brunori ha fatto 17 gol se non vado errato quest'anno, non è una scommessa uno che fa 17 gol. Perché in C viene dalla C? Ho capito, pur Mancuso veniva dalla C, pure la Padula veniva dalla C, non è che veniva dal Real Madrid, quindi non è quello il problema. In C sono tanti giocatori forti come magari ce ne sono in B e noi l'anno che abbiamo cercato, l'anno di la Padula, avevamo preso un giocatore che sulla carta doveva fare sfragelli e nella realtà è poi la Padula è quello che ha fatto sfragelli. Quindi non si può valutare un giocatore se viene dalla C o viene dalla B. Per esempio Tuminello che viene da due anni complicati, Maniero lo scorso anno ha fatto bene, tendevo a dire in generale. Tuminello secondo me è un giocatore che ha nelle corde la possibilità di fare molto bene, sicuramente viene da due anni complicati perché l'anno precedente che aveva iniziato molto bene a Crotone in Serie A, non ce ne dimentichiamo, non in Serie B, ha avuto l'infortunio al crociato e quindi ci ha messo un po' di più a riprendersi. L'anno passato ha fatto la seconda parte della stagione a Lecce con una squadra che andava fortissima e quindi ha avuto meno spazi. Però è un giocatore molto forte e noi ci puntiamo molto. Canutè? Ma Canutè vale il discorso fatto per gli altri, Canutè dovrebbe trovare un po' di spazio e giocare perché è un patrimonio della società e ci stiamo guardando intorno su Canutè. Ventola e Vittorini resteranno a Pescara? Potrebbero anche restare a Pescara, stiamo parlando di due ragazzi del nostro vivaio, di due ragazzi che hanno alle spalle campionati importanti perché Ventola credo che abbia 80-90 partite in Serie C, quasi 100, facendo anche dei gol in quella categoria. Vittorini è un giocatore che può giocare dovunque, forse solo in porta farebbe fatica e Vittorini lo conosciamo tutti. Vittorini ha partecipato in maniera importante alla vittoria del campionato nell'anno di Oddo ed è un giocatore nostro per cui andare a prendere un altro giocatore per tenerlo qui a Pescara ci teniamo i nostri perché siamo ben contenti di farlo. In generale sono tanti, giocatori in organico in questo momento. Sì, sì, ma poi alla fine si ridurranno a 24-25 giocatori. Potrebbe rientrare in operazione col Parma anche Dermacu, visto che è andato via per rotta? Non credo proprio perché noi là dietro siamo... Ci ha pensato un attimo? No, no, siamo abbastanza... siamo tanti come dicevi tu e quindi c'è la possibilità di che... Però l'ha chiesto Zauri? No, Zauri non ha chiesto nulla. Conferenza stampa? Ma l'ha chiesto a voi, no? Quindi siccome voi non comprate i giocatori non potete decidere nulla. Certo che può restare Zauri, è un 97 di nostra proprietà, anche lui ha fatto due campionati importanti e è giusto che ci si metta in gioco perché se poi prendiamo i giocatori per farli crescere, per mandarli sempre in Lega Pro, allora vuol dire che abbiamo sbagliato a prendere quei giocatori. Noi riteniamo che Zauri, un giocatore, ci possa stare e quindi è giusto che sta con noi. Quindi sintetizzando, in odore di cessione, ci sono i giocatori che potrebbero lasciare Pescara, oltre a Bruckman. Quelli che attualmente si stanno allenando a parte... Quelli che fanno parte della Rosa in questo momento. Ma quelli che fanno parte della Rosa, probabilmente Canute che vogliamo che vada a giocare, che faccia una stagione da protagonista perché riteneva sia un giocatore molto forte, che però, essendo in presenza di giocatori altrettanto forti a Pescara, probabilmente un'altra squadra avrebbe la possibilità di giocare, potremmo ritrovarcelo un giocatore importante, un patrimonio importante l'anno successivo. Canute Marras, questi qua... Bonino anche se... Bonino anche se... Marras per noi non è un'uscita. È chiaro che è un giocatore che è contratto in scadenza, è chiaro che il giocatore si guarda intorno. Bonino potrebbe andare a giocare perché ha tante richieste e il resto credo che non sia un problema. Di grazia resta? Di grazia resta, sì. Ma se dovesse andare via Canute ci sarebbe alle spalle di Palmiaro solo Bruno? Beh, ci sarebbe Busellato che all'occorrenza ci può giocare, ci può giocare Musciai all'occorrenza, rientra Meloni, a novembre penso di avere anche Cioceva a disposizione, quindi... Quante abundanze, come direbbe il Presidente? Crecco, che non ce le dimentichiamo, che insomma è un giocatore che l'altro anno ha fatto le sue partite e le ha fatte anche molto bene. Come il terzino-sinistro non prenderete nessuno, cioè ci sono diversi giocatori... Ma abbiamo Elisalde, del grosso e all'occorrenza ci potrebbe giocare anche Crecco. Ma Zauri punterà sul 4-2-3 oppure magari anche sul 4-3-1-2, 4-2-3-1? Questo è un problema tecnico che lo decide lui, se lo vede lui o meno interessa fino a un certo punto. Allora abbiamo fatto al Presidente tecnico... Quando farò il tecnico il prossimo anno, come ti ho già detto, deciderò io sulla formazione e sul modulo.